un altro messaggio allora ho un messaggio per il numero 108 ragazzi 108 chi è il 108? ah eccolo qua ciao Sigismondo da dove vieni Sigismondo? da Veneta ma da Cento lo sento un attimo dal Veneto Rosolina cosa fai di bello nella vita? è un agente immobiliare ragazzi ci sono i soldi benissimo come vorresti la tua idea? è stato appena licenziato come mai scarso rendimento? è stato licenziato per scarso rendimento è una bella cosa vabbè speriamo non aveva la donna giusta è stato dicendo qua ragazzi ah bene con la donna giusta si riferisce di morte benissimo numero 116 116 ragazzi è un uomo chi è quest'uomo fortunato? numero 116 uno uno eccolo qua benissimo ciao come ti chiami? ali ali benvenuto vengo da l'Università di Catara mi vado a chiamare la nostra Lola da Bologna ha fatto la nostra Lola da Bologna ha fatto